Lulo di tamburi e squillo di chiarine, così si inizia a respirare l'atmosfera giostresca. In piazza del comune, come sempre all'estrazione delle carriere ed è stato così deciso l'ordine d'ingresso in piazza grande per la 142esima edizione della giostra del Saracino che si scorrerà domenica 4 settembre. Ad aprire la piazza sarà il quartiere di Porta Santo Spirito, secondo sarà invece Porta del Foro, terzo Porta Crucifera ed infine chiuderà la giostra di settembre Porta Santa Andrea. La sorte ha quindi deciso che sarà il quartiere vincitore nella giostra di giugno ad aprire la piazza domenica 4 settembre, a chiuderla come giugno invece il quartiere bianco-verde di Santa Andrea. Al termine della cerimonia il corteo ha infine accompagnato la lancia d'oro realizzata quest'anno dall'artista Fabio Viale in cattedrale dove vi resterà sino domenica prossima quando verrà ripresa per la lettura del bando.